mezzanotte altro mini video di unboxing di due chicche che vorrei dire manga anime manga boruto numero 15 dragon ball super numero 16 sono un fan patito di manga anime non so se si era capito comunque amo anche il profumo appena stampato sono usciti adesso faccio un po di spoiler per chi va beh segue già l'anime il manga di entrambi boruto 15 è un po più indietro il manga rispetto all'anime qui si scopre un po chi è code qual è l'organizzazione che è dietro i cyborg si evince chi è heida chi è daemon il fratello e si inizia un po a capire qualcosa un po di più sul karma e sui vari otsutsuki dragon ball super numero 16 la battaglia che è già presente tra goku vegeta e alcuni guerrieri comunque di molto universo per intenderci in questa battaglia entrerà in gioco gas ormai hanno dei nomi praticamente molto universali non si esegue più una linea comune ma essendo molto universo per sostanzialmente ogni saga di per sé ha un nemico da un universo diverso un gioco di parole incredibili però tanta roba collezionateli ragazzi se potete perché veramente parte profumo dello stampato che mi crea un feticismo della pagina che è incredibile buonissima e poi sono veramente fatti bene planet manga italia tanta roba io da ho iniziato a collezionare manga dal 2007 presi il primo naruto 33 non so perché presi il 33 ma da loro ho continuato a collezionarli sia questi naruto boruto dragon ball dragon ball super ma anche one piece come ho fatto già un unboxing di prima del numero 100 seguo di più l'anime che è molto più avanti anche online o sui canali telegram ma però veramente questo per un collezionista è tanta roba e in futuro varrà ancora di più e poi soprattutto ho creato un po un'anima no in questi manga cioè sono praticamente quelli della mia adolescenza teenager se fino adesso se ci pensiamo già ancora fin da quando ero bambino quando inizia a vedere kenshiro altri altri anime giapponesi poi arriva a dragon ball poi arriva naruto buruto adesso e tutto il resto però hanno trasformato praticamente la nostra giovinezza questi e tuttora chi li legge ci rende giovani tac quindi tanta roba e costano davvero poco non sono mai aumentati tanto allora uno costa ma no no boruto aumentato cazzo di 520 e l'altro è 450 sì comunque sono lì una volta costavano meno tipo sui 390 però vabbè i prezzi dei rincari si fanno sentire anche su questi quindi boruto dragon ball super rifanno anche le ristampe di naruto one piece tanta roba perché davvero in hype e che vi devo dire ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché dr besca anche questo tac